Buonasera e benvenuti su Connected. Procede spedita la folle agenda che ci porterà entro il 2030 verso la folle transizione green. Un processo che non sarà indolore e che lascerà sul campo molti caduti. Sigla. L'attacco alla casa da parte dell'Unione Europea è solo il primo in ordine di tempo di una serie di iniziative perpetrate ai danni del nostro Paese. Altri provvedimenti assurdi però sono in arrivo. Cosa dobbiamo aspettarci? Ne parleremo oggi con un ospite importante, l'eurodeputato della Lega, Alessandro Panza, che in questi giorni si sta battendo come un leone affinché possa essere stoppata questa folle corsa verso l'impoprimento del nostro Paese. Buonasera Onorevole, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi, ben trovati. Onorevole, da poco è stata approvata questa direttiva sulla cosiddetta Casa Green. Ci spiega cosa prevede i rischi che corre il patrimonio immobiliare del nostro Paese? Innanzitutto è una precisazione. La direttiva ancora non è diventata ufficialmente tale, nel senso che sta ancora svolgendo il suo percorso legislativo all'interno delle direttive europee. Siamo arrivati al punto in cui il Parlamento ha espresso, con il voto in plenario nella scorsa sessione di Strasburgo, un voto che va ovviamente nella direzione di aumentare quelli che sono gli obblighi, gli impegni, che dovranno in qualche modo aderire gli stati e per loro conto ovviamente i cittadini. Fortunatamente dicevo perché prima di diventare legge a tutti gli effetti della classe, con forza al seno al Consiglio europeo, dove ovviamente la cosiddetta in Italia, ma non solo, è fortemente contraria soprattutto per quanto riguarda i tempi e le modalità di prenotazione di questa direttiva. Quali sono i rischi? I rischi sono che se venisse approvata così com'è dal Consiglio di gestione direttiva a tutti gli effetti, i cittadini italiani si troveranno a dover fare i conti con una tassa potenegnante o mettersi nelle disposizioni di dover soddisfare dei criteri energetici che vanno verso un abbassamento di quelle che sono configurate le emissioni degli edifici, andando a soddisfare quei requisiti che vengono stabiliti con delle categorizzazioni fatte come quelle ad esempio che abbiamo imparato a conoscere da tanti anni sugli elettrodomestici, con un piccolo problema. Noi nel nostro paese abbiamo circa il 70% del nostro patrimonio immobiliare che non soddisfa i criteri di questa direttiva. Quindi vorrebbe dire che praticamente tre case su quattro c'è interventi di ammodernamento, interventi di efficientamento, interventi che avrebbero un costo quando a quanto riportano a società di categoria, anche in particolare potrebbero avere una ricaduta di circa 50-60 milioni per famiglia da dover sborsare per fare un efficientamento. con il rischio che chi non si adegua a questo tipo di direttura vede poi il suo patrimonio immobiliare che per la stragrande esageranza dei cittadini italiani, un asset comunitale, è nel strumento della famiglia, è il bene di risparmio per eccellenza, rischia di essere visto in maniera, rischia di finire penalizzato e di perdere il suo reale valorizzato. Quindi chi ha fatto sacrificio una vita, chi ha fatto brutto, chi magari ha avuto la fortuna di ereditare qualcosa del diritto, rischia di trovare nella situazione di avere un patrimonio che non ha più alcun rischio. Questo ovviamente è un rischio che noi abbiamo più volte paventato, abbiamo più volte cercato di spiegare alla Commissione, abbiamo più volte cercato di spiegare anche i colleghi del Parlamento che tutti vogliono avere una casa più efficiente e che consona di meno, però bisogna spiegare quali possono essere le risorse. Ovviamente il Presidente della Commissione, anzi invece scusate, il Presidente esecutivo della Commissione, io lo chiamo Presidente perché in realtà è il fatto che riguarda il vero artefici delle politiche, soprattutto quelle green della Commissione europea, il Commissario Timmermans, che in qualche modo ha detto che l'Italia sarebbe una delle prime beneficiari dell'ipotetico fondo per far fronte a queste spese. Ecco, giusto per dare due numeri, il cosiddetto super bonus è colpato alle casse di circa 110 milioni per efficientare più o meno il 3% delle abitazioni del nostro Paese. ...per efficientarne il restante 70%. È chiaro che con i numeri non ci siamo per niente, quindi vuol dire che alla fine della fiera per raggiungere quegli obiettivi dovrebbero pagare i cittadini di Tascaloro e in un momento storico come questo è una cosa che assolutamente non ci possiamo perdere. Assolutamente d'accordo. Oltre al settore immobiliare, anche quello alimentare rischia una pesantissima crisi. Ad esempio saranno pesantemente colpiti gli allevatori. In che modo possiamo difendere il nostro settore agroalimentare? Ma guardi, le minacce al settore sono varie. L'ultima in ordine di tempo è stato il voto, questa volta insieme al Consiglio con il voto favorevole della stessa Olanda dove c'è un governo che sta iniziando a pagare le conseguenze in termini elettorali di queste scelte fatte sull'attacco agli regolamenti anche perché nelle ultime inizioni provinciali e regionali in Olanda il partito degli allenatori ha fatto il record dei segni, in partito non si era mai presentato, ha ottenuto la maggioranza dei voti proprio perché c'è una situazione di esasperazione da questo punto di vista perché l'Europa ci dice con delle normative che non trovano nessun fondamento architettifico soprattutto nel nostro continente dove già gli allenamenti sono ipersostenibili e hanno già ridotto all'osso le emissioni di qualsiasi tipo di inquinante a partire dall'origine di azoto che sono quelli che derivano dalle deiezioni quindi dagli scarti degli allevamenti, hanno imposto delle ulteriori normative al ribasso vogliono includere gli allevamenti bovini tra le attività inquinanti nei prossimi regolamenti se dovete passare a questo tipo di iniziativa in Lombardia il 55% degli allevamenti sarebbe fuori norma e quindi questo prevede che per raggiungere quegli obiettivi bisognerebbe arrivare ad un abbattimento di numerosi capi andando quindi ad impoverire quella che è la produzione di qualità e di eccellenza soprattutto nel nostro paese di carne, di formaggi e eventuali derivati di salumi insaccati per andare poi a beneficiare di che cosa? per andare ad introdurre finanziando studi come fatta chiedendo la Commissione Europea su la carne sintetica o meglio come la chiamano loro la carne coltivata cercando anche di far passare una narrativa che ha un po' dell'orwegliano di far passare l'idea, qualche consumatore poco accorto che la carne coltivata è un contenuto che si sveglia in mattina e con la sua cesta di limini sotto braccio va nell'orto a raccogliere le braciole e le bistecche ecco nulla di tutto questo, la carne sintetica è un procedimento fatto in laboratorio che ha un enorme sborso energetico sia appunto in vista della realizzazione che della produzione e che soprattutto è un qualcosa che si può brevettare, è qualcosa che può diventare come la Coca Cola per intenderci, la Coca Cola non è qualcosa che ognuno si pacca da sua con i suoi ingredienti facendoci un'economia anche di circolarità e di vicinanza no, la Coca Cola è un prodotto industriale che ha un padrone, che ha una marca, che ha un copyright che ha un'attività, che ha un'attività, la carne sintetica è esattamente in questa direzione con evidentemente l'impoverimento del nostro patrimonio agroalimentale ma io vi dicevo, questo è solo l'ultimo in ordine di tempo perché non abbiamo visto come ad esempio il formigerato nutri scorso che ha fatto avere propria minaccia strumento che come sappiamo è stato finanziato, specializzato, ballato, pinto e implementato dai grandi gruppi internazionali del food e della grande distribuzione soprattutto francesi, qua ci tengo a cercare di smarcare un equivoco la Francia non è a favore del metricore, sono i grandi gruppi industriali francesi che sono a favore del metricore, quindi da una parte lo stocco francese che ha chesso al suo interno un patrimonio importante di produzione agroalimentare di formaggi, di vino e quant'altro dall'altra però ci sono Danone, ci sono Carrefour e altri grandi gruppi che sul metricore vogliono cercare di portare avanti una natura attiva che è quella che serve ad agevolare il consumatore in realtà allora di tutto questo va a forbiare pesantemente il consumatore andando a indicare prodotti stagni, prodotti che stagni non sono e andando a probabilizzare che i prodotti che invece hanno magari come le nostre produzioni in particolar modo penso alle Dopoli, gli Ocgg che hanno un disciplinare che hanno tutta una filiera controllata e certificata che dimostra quanto questo prodotto in realtà sia più sano di qualche porcheria fatta in fabbrica, di qualche semilavorato di qualche prodotto precotto eccetera Ecco, l'emergenza immigrazione nel nostro paese è strettamente ormai legata anche all'emergenza sicurezza nelle città italiane si moltiplicano i reati compiuti appunto da irregolari dobbiamo rassegnarci al fatto che questo sia un problema italiano o a Bruxelles finalmente si inizia a muovere qualcosa? No, l'auspicio è che finalmente con una spinta forte da parte del governo italiano si prenda atto che l'Europa non può più solo promettere situazioni che poi non vengono realizzate e con risorse che restano sempre solo sulla carta L'immigrazione è un problema che deve riguardare tutto il continente per quello che diciamo sempre l'Italia non è un problema di confini italiani ma l'Italia è un confine d'Europa un problema che deve riguardare tutta l'Europa quindi ci va un fatto prima di tutto tra i paesi del Mediterraneo non è più pensabile che Malta, la Grecia, Cipro stessa di sua parte ricordano che se l'Unione Europea possono avere degli atteggiamenti di un certo tipo mentre sull'Italia nulla è concesso nulla è potuto secondo tutti i termini di restringimenti quindi segue che anche da questo punto di vista sia comunque tutto un allineamento che è il paese del Mediterraneo e poi che ci sia da parte dei paesi del Nord Europa l'accettazione del fatto che però l'immigratore non lo può gestire l'Italia perché non ha gli strumenti non ha le forze di contrastare con un fenomeno che lo vediamo dai numeri è una portata sempre più importante e dobbiamo decidere cosa vogliamo fare se continuare a far finta di niente bene a testa dall'altra parte salvo poi piangere le lacrime di coccodrillo quando avvengono tragedie come quello che ha scritto in Calabria oppure a portare il tema una volta per tutte e capire ad esempio quello che sta succedendo in Tunisia in Tunisia in questo momento servono risorse risorse che sono un investimento per il futuro perché risorse che noi oggi potremmo andare a dare ad una Tunisia che evita di fallire dal punto di vista dello Stato evitare che decine se non centinaia di migliaia di trassone si imbarchino e vengono verso il nostro paese e poi non saremmo in grado di gestire quindi questo è il tema su cui è un tema che andrebbe poi allargato a tutto il resto anche del continente africano però abbiamo fatto per anni finte politiche di sostentamento di questi paesi in questo preciso momento in Africa ci sono Russia e Cina che non si fanno tanti problemi di portare democrazia, sviluppo eccetera ma portano risorse per quanto soldi e portano via risorse e portano via materiali rari portano via risorse preziosi per lo sviluppo lasciandoci tra l'oloretti il costo sociale dell'immigrazione che punta tutto verso l'Europa quindi abbiamo oltre il danno la mezza quindi il problema va gestito in maniera molto più pragmatica e molto meno ideologica che purtroppo a Bruxelles difficilmente si riesce a fare Ecco, sul nostro paese pende la spada di Damocle del MES ci spiega quali sono le criticità della modifica che siamo chiamati a ratificare e qual è la posizione della Lega in merito? Guardi, quello che è accaduto con il Credit Suisse in questi giorni è proprio la dimostrazione plastica che il meccanismo di stabilità non serve è uno strumento, è un'artifizio amministrativo finanziario parastatale che non raggiungerebbe lo scopo quando dovesse succedere all'interno dell'Eurozona qualcosa che è in questi giorni in Svizzera la soluzione è molto più semplice, molto meno cervellotica e soprattutto molto più sicura per i correntisti, per i depositari e gli azionisti ovviamente si assumono il rischio di comprare azioni chiunque compro un'azione sa che è esposto ad un rischio di perdita può anche essere un rischio di perdita totale in questo caso Credit Suisse ha penalizzato gli azionisti gli obbligazionisti in favore degli azionisti però sono tutte in dinamica di seconda parte del mercato il MES potrebbe arrivare invece a pagare il costo di una cattiva gestione dal punto di vista finanziario la banca fallisce se si è fallita la malagestio sostanzialmente alla fine di tutto ma la stessa cosa si possa fare la Silicon Valley Bank anche che sono fatta prepararia per delle gestioni discutibili e questo titolo non può essere sicuramente fatto pagare dai correttisti che hanno nei loro depositi bancari anche quel rapporto fiduciario nei confronti della stessa che hanno sicuramente a perdersi e a scatenare il panico la crisi di questi giorni ha dimostrato che Federal Reserve da una parte e Banca Centrale Svizzera dall'altro hanno fatto l'unica cosa sensata da fare nel caso in cui una banca arriva a saltare per anno ovvero hanno tampato i soldi che servivano a evitare il crollo del sistema bancario all'Italia dei loro paesi e continueranno a farlo intanto che sarà necessario questo è quello che dovrebbe fare la Banca Centrale Europea questo è quello che dovrebbero fare gli stati a livello anche dell'Unione Europea per evitare appunto che ci si ritrovi in una situazione difficilmente gestibile l'abbiamo visto quando sono saltate in aria le piccole banche nel nostro paese non potrebbero pagare gli stati piccoli risparmiatori non potranno assolutamente permettere che succeda ancora nel futuro ripeto la strategia è molto più semplice meno cervellotica di uno strumento che non raggiunge l'obiettivo e rischia semplicemente di creare ancora più danno di quello che è di quello che potrebbe essere un esempio pratico se domani mattina dovesse fallire una banca europea e il MES che va a colpire il Baylink che va a colpire scusate i correntisti sopra i 100.000 euro non farebbe altro che fare che cosa? di mantenere il panico mandare tutti i correntisti a ritirare i propri fondi dalla banca e succedere che cosa? che quella banca non avrebbe più i soldi per colpire tutti i correntisti e salterebbe il determinare la banca creando poi un effetto nuovo su tutto il sistema bancario europeo no, il MES non è un sistema che funziona è un sistema che fin d'altro che rimane lì pospeggiato quantomeno evita di fare dagli Onorevole, la ringraziamo per essere stato qui con noi e per aver accettato il nostro invito e le facciamo un in bocca a Lucupo per il suo lavoro a Bruxelles grazie a voi, alla prossima come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like a condividerlo ma soprattutto ad iscrivervi ai nostri canali Telegram Youtube e Odyssey grazie, alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti